ciao a tutti oggi prepareremo i bignè il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa ingredienti sono acqua farina di tipo doppio zero burro morbido uova vanillina sale e zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero, il burro la vanillina e il sale facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi velocità 2 aggiungiamo la farina aggiungiamo il bimbi per un minuto a velocità 3 a questo punto azioniamo di nuovo il bimbi per 30 secondi sempre a velocità 3 lasciamo raffreddare all'interno del boccale per 20 minuti circa senza il coperchio trascorsi il tempo chiudiamo il boccale con il coperchio azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 4 e dal foro del coperchio aggiungiamo una per volta le uova a questo punto fermiamo il bimbi e lo azioniamo per 30 secondi sempre a velocità 4 il composto è pronto trasferiamoli in una sac a poche e formiamo i bignè abbiamo trasferito l'impasto in una sac a poche adesso andremo a formare i bignè cuocere in forno preriscaldato statica a 200 gradi per 20 minuti circa terminata la cottura aprire leggermente lo sportello e lasciare raffreddare per 15 minuti all'interno del forno il bignè se sono pronti serviamoli il bignè il bambino 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 il bambino